Il giorno dopo il quale niente nella vita di Raimund Gregorius sarebbe stato come prima, iniziò come innumerevoli altri giorni. Lui arrivò dalla Bundesterrasse alle 8 meno un quarto e imboccò il ponte di Kirkenfeld che porta dal centro della città al liceo. Faceva ciò ogni giorno lavorativo dell'anno scolastico, invariabilmente alle 8 meno un quarto. Una volta, quando il ponte fu bloccato, commise un errore durante la lezione di Greco. Non era mai successo prima e non è mai successo di nuovo. L'intera scuola parlò di quell'errore per giorni. Più a lungo andava avanti la discussione, più aumentava il numero di coloro che attribuivano l'errore a una percezione uditiva distorta. Alla fine, questa convinzione prese il sopravvento anche tra gli studenti che erano stati presenti. Era semplicemente inconcepibile che Mundus, come lo chiamavano tutti, commettesse o l'intera scuola. E l'intera scuola per Запima, immagini, come lo chiamavano di Grigimo, latino o hebraico. Il giorno dopo che non niente più nella vita di Reimond Gregorius era il mismo, Comezò come incontabili altri giorni Il fu 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 da Bundesterrasse A 15.00 para 8.00 E si è in Kischenfeldbrich Che va dal centro della città Para il ginazio Il fa questo tutti i giorni letivi Do periodo scolar Invariavelmente nel stesso horario Una volta che questa ponte Estava fechata Il cometeva un erro Durante la aula di grego Questo non c'è successo E non c'è successo A scola toda Falò di questo erro Per giorni Quanto più la discussion Se prolongava Mais aumentava il numero Daqueles che attribuivano O erro a una distorzione Na percepzione auditiva Eventualmente Essa conviccia Tamb'è ganhò vantagem Entre os alunos Que tinham estado là Era simplesmente inconcebível Que mundos Como todos os chamavam Cometesse un erro In grego Latim O hebraico O hebraico I amparo I amparo I amparo I amparo